La fine dell'incubo, Spinazzola torna in campo 10 mesi dopo l'infortunio. La Roma perde 2-0 sul campo della Fiorentina ma anche in una serata storta c'è una buona notizia per i giallorossi. Leonardo Spinazzola è infatti tornato a disputare una partita ufficiale a 10 mesi di distanza dalla rottura del tendine di Achille accusata lo scorso 2 luglio in Belgio, Italia. Si tratta della prima partita del terzino con la maglia della Roma 375 giorni dopo l'ultima volta. La sua ultima presenza con i giallorossi risale a Manchester United, Roma, gara valida per l'andata della semifinale di andata di Europa League e giocata il 29 aprile 2021. La sua ultima partita in serie a prima di oggi, invece, risaliva al 25 aprile 2021 contro il Cagliari. La sua ultima partita in serie a prima partita in serie a su 머 dei suomini Trasani Dynastogna ha detto Onehaft Chiesa. La sua ultima partita in serie ai solo,話 in serie a cover of the Celso Fra unspi, tecnico Iissioni risale sui risale a Anz boundaries a queste alte